E insomma la Germania fa gli interessi della Germania, non fa gli interessi degli altri paesi, meno che mai dell'Unione o della Nato. La Germania sta cercando di salvare la pace in Europa, nell'Europa vera, non nell'Unione. Sì, il continente, parliamo del continente. Esatto. E questa azione politica della Germania può essere una speranza per evitare questo conflitto. Sempre che i lacche, cioè noi, l'Italia e tutti gli altri, non si comportino in maniera totalmente diametralmente opposta e che quindi... Resta il problema politico dell'Ucraina, e cioè può esistere un'Ucraina dominata da formazioni ultranazionaliste, neonaziste, che che ne dicano i nostri media, che lo negano, no? Sempre, legalo l'evidenza in poche parole. Sussistere nel momento in cui con la sua industria anche spaziale, perché produce motori, vi dicendo, è in grado di produrre missili anche per colpire autonomamente Mosca. L'abbiamo già detto più volte, è un problema enorme questo. Cioè avere un'Ucraina invasata e ostile alle porte di casa, chi vorrebbe un vicino così? Sì, è come avere l'ISIS accanto, a un certo punto nessuno la vuole. È come avere un governo di un paese governato da folli e armato fino ai denti, come vicino di casa. Ecco, nessuno lo vuole. E quindi in un modo o nell'altro una soluzione la Russia dovrà trovarla. Una cosa che è successa stamattina, c'è stata una serie di attacchi informatici. Vi ricorderete che l'Ucraina aveva lamentato degli attacchi contro una sua rete... Questione di una settimana fa, dieci giorni fa. Dei siti, esatto, dei siti istituzionali e via dicendo. Bene, invece è stata attaccata la rete ferroviaria belorussa, probabilmente perché vengono anche usati per il trasporto dei mezzi russi. E ha subito un tentativo di hackeraggio. E poi, una cosa strana, è mancata la corrente in Uzbekistan, Turkmenistan e Kazakistan. Cosa che continua a essere in vigore. Credo che la corrente continui a mancare. In parte del paese è stata ripristinata, ma in altre zone no. E non si capisce bene come si sia generata questa sovratensione che ha fatto scattare i meccanismi di sicurezza delle reti che si sono disabilitate. E quindi hanno staccato il collegamento con le centrali e probabilmente le hanno spente. E poi vanno riavviate. Abbiamo novità dal Kazakistan, Stefano? Dal Kazakistan, come novità, avevo che erano arrivati non so quanti migliaia di arrestati. Più di 10.000, di sicuro. E poi, ah no, la novità nella Russia, la banca centrale aveva chiesto di mettere fuori legge il mining. Sì, bitcoin, eccetera, eccetera. I criptovalute, i criptovalute in generale, eccetera, che è una delle concause che ha scatenato, tra l'altro, gli aumenti dei prezzi in, oltre che delle schede video. Certo, sì, sì, sì. Quindi anche a me stanno altamente sulle scatole i minatori di bitcoin. Non riusciamo più a giocare a Command & Conquer, dannazione. Sì, no, io volevo cambiare le schede video, ma hanno dei prezzi allucinanti. E quindi, cioè, peste li colgo ovunque si trovino. E restano altre novità, al momento non ne ho. Se ne hai tu? No, dal Kazakistan no, volevo chiederti apposta, perché erano forse una settimana che avevo visto altre immagini che la polizia continuava a condividere sui social. Hanno trovato Covid con armi sottratte probabilmente dai magazzini, dai depositi, vi dicendo, in varie parti del paese, quello sì. Quindi hanno continuato nel debellare tutte le cellule di questi estremisti che si erano inseriti, organizzati nel paese, hanno fatto un gran repulisti. Quindi non è che tre settimane fa ve ne abbiamo parlato e oggi tiriamo la tenda, continuano a esserci sicuramente dei problemi, come hai detto, con le interruzioni elettriche, e ci sono anche degli sviluppi messi in sicurezza, soprattutto dei luoghi importanti come Baikonur, eccetera, eccetera. Ci sono state poi delle dichiarazioni da parte del governo in cui invitavano i grandi possidenti kazaki e hanno specificato che in una decina di persone possiedono il 62% della ricchezza del paese. Voglio dire, loro li hanno invitati a restituire parte di questa ricchezza al paese. Perché? Perché si sono arricchiti sotto il governo di Nazarbayev, che è stato ormai esautorato dal potere. Non sappiamo fino a che punto questa iniziativa avrà un seguito, però è indicativo di quello che vuole essere una nuova tendenza e corrobora l'idea nostra della cessione di potere, di cambio di potere, di sfere di influenza all'interno del kazaki. Vedremo se si tratterà di più corruzione o meno corruzione o la stessa corruzione. Sì, mi interessa soprattutto vedere come poi si orienterà politicamente, cioè se verrà mutata la politica dei piedi in più scarpe che il kazaki stava sempre cercato di tenere durante l'epoca Nazarbayev e se cambierà con il nuovo presidente, che adesso è plenipotenziario tra l'altro. Vedremo entro breve, comunque poi con i fatti in tutto sommato questo. Sbaglio Stefano o si è dimesso anche il presidente armeno, non il primo ministro, il presidente? Il presidente armeno si è dimesso perché ha detto che non riesce a indirizzare la politica del paese e pertanto in evidente contrasto con Pascina si è dimesso. Vediamo adesso poi che strada sceglieranno di prendere gli armeni perché ricordiamo che sono sospesi a metà tra il seguire le ONG pagate con i programmi americani di corruzione e di influenza delle loro scelte. O gli amici storici russi che li hanno difesi diplomaticamente quando hanno avuto bisogno a causa dell'invasione e della guerra scatenata dalla Nazarbayev. A seguito di queste dimissioni possiamo ipotizzare un qualcosa? No, al momento no. Non avremo la più pallida idea dell'indirizzo. No, perché comunque sia elettoralmente il primo ministro ha una base elettorale forte al netto di eventuali brogli politici elettorali. Vediamo poi come verrà scelto il nuovo presidente e quale sarà eventualmente. Poi sinceramente credo che sia più una figura di secondo piano perché fino adesso abbiamo sempre visto protagonista dell'indirizzo politico del paese, il primo ministro. Esattamente, esattamente. Quindi l'Ucraina rimane un punto interrogativo. Ci sarà la guerra? Non ci sarà? Sinceramente al momento non mi sento di esprimere una ipotesi più l'una o l'altra. Ora, non lo so. Tutto fa pensare che quello che è in campo sia di tale dimensione che quando si è visto in passato che si sono avuti schieramenti simili la guerra poi c'è stata. Basandoci sul passato. Basandoci sul presente può succedere di tutto. Mi ha mandato Stefano delle immagini dei dispositivi antiaerei ucraini che si stanno dispiegando verso nord. Verso nord, perché questa è una cosa piuttosto interessante. Non si aspettano niente dalla parte delle repubbliche indipendenti, ma si aspettano qualche cosa più dal confine con la Bielorussia quasi. Guarda, loro avevano questo fronte piuttosto scoperto. Hanno una coperta molto corta, per cui se hanno armato talmente tanto i Donbass, hanno scoperto altri settori. Non si aspettavano un dispiegamento massiccio di truppe russe in Bielorussia. Lo stesso presidente, Lukashenko, ha detto che se dovesse succedere un qualche cosa con l'Ucraina, loro interverranno. E quindi devono essere pronti a farlo. Li sta un po' spiazzando, perché il fronte a nord è molto, molto grande. E porrebbe in immediato controllo di una zona strategica importante le eventuali forze di incursione russe e bielorusse che calerebbero da nord. Perdonami Stefano, noi vediamo dal punto di vista politico la Polonia che vuole sbaffarsi l'Ucraina e l'Inghilterra e la Polonia che fanno di tutto per evitare che la Russia metta piede in Ucraina. Ma se fosse la Bielorussia a mettere piede in Ucraina e non la Russia? Sarebbe la stessa cosa, nel senso che Lukashenko non inizierà un conflitto con l'Ucraina. No. Resta da vedere se tutti gli allarmi che stanno arrivando da due giorni a questa parte, l'unico ammassamento di forze offensivo che c'è in tutta questa storia è intorno al Donbass ed è da parte Ucraina. L'Ucraina ha un ammassamento per un'invasione. Sono due mesi, tre mesi che butta materiale lì senza sosta. Esatto. E proprio in questi giorni hanno visto arrivare proprio a ridosso del fronte, delle linee del fronte, pesanti armamenti. Smerch e altri lanciarazzi sono stati segnalati. Hanno fotografato e segnalato la presenza di molti istruttori occidentali, americani e inglesi. 40 istruttori del SAS, ad esempio anche Uorgonzo, Semyon Pegov, il giornalista russo che segue molti conflitti in prima persona, è già sul fronte qua. Anche questo è un indice, tra l'altro... Che c'è qualcosa che bolle in pentola. Esatto, qualcosa che bolle in pentola perché è andato a Donetsk. E ha seguito tra l'altro il battaglione Sparta, te lo ricordi? Certo, sì, quello di Motorola, Givi, sì. Esatto. Che c'era Sparta, che era quello di Motorola, se non sbaglio, e poi il battaglione Somalia. Somalia, che era di Givi, sì. Esatto, sì. E Sparta forse era l'unione dei due, addirittura, però non ne sono sicuro. Quello che hanno notato si sono ricominciati ad addestrare in maniera intensa, e tra l'altro con armi da fuoco. Ma io ho visto anche blindati moderni, ho visto dei BTR un pochettino modernizzati. Sì, li hanno messi a posto bene, in questi anni ne hanno recuperati tanti, che erano danneggiati, abbandonati, eccetera. Li hanno recuperati, riparati, riverniciati, riattrezzati. Blindature migliorate, ci speriamo. Sono, diciamo, complete quelle che devono esserci. in mezzi che sono altamente efficienti, ecco. Non quelli che recuperavano, che erano, ti ricordi, tutti un po' scassati, no? In quegli anni di... Apprendevano quello che c'era. Non ci ricordiamo anche delle immagini quasi ridicole di quando hanno tirato giù da un piedistallo il T-34. Sì, sì, sì. E hanno smontato e rimontato il motore per accenderlo. Sì, sì, sì. È incredibile. Comunque sia, sono riusciti a farlo. Sono riusciti a farlo e a utilizzarlo. E quindi a dicevi che adesso hanno avuto il tempo per rinforzare il dispositivo, ecco. Sì, e tutti, e tutti loro hanno, tra l'altro, Pegov ha citato delle fonti che sono oltre le linee che hanno potuto identificare una quarantina di soldati britannici arrivati come istruttori sul fronte. Che, tra l'altro, istruiscono anche sull'uso appunto di questi armamenti nuovi di cui sono entrati in possesso e che non è che siano pronti come i giocattoli che li tiri fuori dalla scatola e spari, no? Sì, sì, l'utilizzo di un missile è complesso. Vanno utilizzati in un determinato modo. Insomma, c'è chi soffia per avere il conflitto e non si capisce bene perché voglia a tutti i costi questo conflitto se voglia coinvolgere la Nato in questo per avere una guerra contro la Russia e arrivare a distruggerla, in poche parole. Vogliono giocarsi delle carte folli di fare una guerra convenzionale contro la Russia quindi senza uso di armi nucleari per qualche motivo. Io sinceramente non mi capacito di quale ragione possa spingere dei paesi a farsi la guerra in questo momento in cui l'economia avrebbe bisogno di più stabilità. Però dobbiamo anche ricordarci che i passi avanti che l'economia del blocco euro-asiatico stanno facendo porrà sempre più in difficoltà Mira i nostri interessi fondamentalmente. Mira gli interessi dell'elita al governo non i nostri come cittadini dell'elita al governo e che controllano l'economia e la finanza occidentale. quello sì quello sì loro stanno e sanno che perderanno sempre più influenza sul mondo sempre meno poi altrettutto se dovessero togliere dal circuito Swift ad esempio la Russia questo addirittura alcuni analisti hanno già messo in guardia hanno detto guardate che questo potrebbe raccogliersi contro a noi perché loro potrebbero accelerare e ricorrere a un sistema parallelo alternativo e che quindi noi perderemo il totale controllo che adesso abbiamo sui movimenti bancari. Sì che questa è veramente l'ultima coltellata alla schiera. perché se 3 miliardi di persone decidessero di utilizzare un altro sistema 3 barra 4 miliardi di persone sarebbero cioè non sarebbero loro isolati sarebbe il mondo diviso in due due circuiti ne convinci altri come il Venezuela il Sud America e sei a posto ma paesi africani paesi asiatici la Cina l'India cioè se già solo loro due si dovessero spostare siamo già oltre i 3 miliardi di persone e poi con altri paesi anche in Africa andiamo versi 4 5 barra oltretutto con il Sud America stiamo parlando di numeri enormi e di movimenti di danaro inimmaginabili sì ma trovo anche che sia tardi l'Occidente perderebbe il controllo trovo anche che sia tardi ormai mettersi a parlare di queste cose qua quando sono 7 anni di sanzioni senza fine e così via e senza esito comunque sia la cosa pazzesca è che l'Occidente non si capacita di aver perso il controllo sul globo cioè noi sembriamo scusami un giocatore un giocatore di quelli professionisti che nonostante tu abbia perso tre volte beh devi ancora dimostrare che tu sei capace di giocare e perderai le altre quattro cinque volte sì io userei un accanimento di questo tipo la similitudine con il pugile suonato ah ok sì che non capisci sì che non sa più neanche dov'è il suo ring picchia a sinistra a destra e barcolla sì e cerca di menare ancora il pugile che in realtà lo sta massacrando di botte no e questo perché dal punto di vista economico e nel mondo noi vediamo un continuo cambio di sfere di influenza e un'Europa invece che dice eh ma parlare di sfere di influenza nel ventunesimo secolo la citazione di oggi dei ministri degli esteri dell'Unione europea parlare oggi di sfere di influenza nel ventunesimo secolo è anacronistico quando in realtà tutti i paesi che nel mondo sono zona di influenza o della dell'Inghilterra o della Francia o degli Stati Uniti e via dicendo e quindi loro dicono parlare di sfere di influenza non ha senso sì se è quella degli altri se è la vostra guai a chi ve la tocca no addirittura al Mali per aver scelto di passare autonomamente verso la sfera di influenza russa sta ricevendo le sanzioni no un paese che è in lotta contro il terrorismo ha chiesto l'aiuto alla Russia per combattere il terrorismo e i paesi europei gli hanno messo delle sanzioni gli hanno imposto delle sanzioni alla faccia appunto delle sfere di influenza nel Burkina Faso si sono scatenate per settimane le manifestazioni della popolazione contro queste decisioni dei paesi europei tra l'altro ricordiamo che in 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 Burkina Faso c'è un ennesimo paese ex colonia francese c'è un'operazione militare francese che è l'operazione Barkhane no l'operazione Barkhane che è iniziata nel 2015 nel 2014 pardon e gli anni proprio in cui si scatenava l'isis dovunque o i terroristi ecco che ora il Burkina Faso ha avuto un colpo di stato no e anche qui cambiano le sfere di influenza forse perché tra le giustificazioni che i militari hanno dato di questo di questo colpo di stato il colonnello Damiba che ha deposto Caboret il presidente c'è appunto il cambio di strategia nella lotta al terrorismo questo cambio di strategia può significare anche che loro vogliono avere gli aiuti come hanno avuto in Mali e cioè dalla Russia che sembra dare ottimi risultati nella Repubblica Centroafricana in Mali e in altri paesi perché noi abbiamo visto che appunto la Russia sbarca in queste regioni invece che semplicemente mollare armi e soldi ai soliti corrotti beh questi arrivano e cominciano a insegnare il russo addestrarli fare scambi formano veramente formano veramente l'esercito e gli danno anche abbiamo visto molti che si freggiavano degli adesivi delle patch della Wagner gli danno anche l'orgoglio di appartenere a un corpo e quindi di avere un addestramento di avere delle capacità e li aiutano a metterli in pratica autonomamente al contrario di quello che sembra aver fatto sempre l'Occidente che manda i suoi consiglieri che poi comandano gli ufficiali del posto giustamente a noi l'Africa è sempre servita debole e asservita la cosa non è uguale per i russi che considerano l'Africa più che altro un partner commerciale un qualcuno sembra che l'intenzione sia quella l'intenzione sul campo sia quella molto più rispetto e questo questo golpe che si è concluso tra virgolette ieri con la cattura di Caboret la sua imprigionazione l'hanno imprigionato mi sembra in una caserma non si sa bene quale e poi gli annunci in tv della chiusura delle frontiere delle dimissioni del governo e hanno preso il totale controllo ecco il golpe sembra riuscito non pare ci siano forze lealiste attive nel paese è stato sanguinoso oppure ma il giorno prima avevano iniziato a sparare ma non si capiva bene che cosa succedesse poi si era capito che avevano preso il controllo di una caserma ai militari e poi da lì evidentemente non hanno trovato resistenza hanno preso il palazzo presidenziale il parlamento e lo stesso presidente l'hanno fatto prigioniero quindi non è stato il culbine di una guerra civile è stata un'operazione lampo è riuscita bene e poi entro breve nei prossimi settimane e mesi capiremo se ci troviamo di fronte a un cambio di influenza anche quindi dalla Francia verso altri attori o se invece è una cosa interna magari d'altronde Damibà arriva dalle scuole militari francesi ma tutti 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 certo tutti quelli che arrivano dall'esercito nelle colonie ex colonie francese hanno fatto scuola in Francia quindi non vuol dire questo sembra che la Francia stia perdendo un sacco di influenza in Africa moltissima moltissima c'è un cambio di influenza in Africa che è pauroso e non è non trova veramente non si placca questo perché ricordiamo anche la Guinea ricordiamo il Sudan che ha avuto anche lui colpi di stato ci sono stati altri paesi che ne hanno avuti ma è un continuo negli ultimi nell'ultimo anno negli ultimi due anni non è non è tranquilla neanche la costa d'Avorio insomma di carne al fuoco ce n'è tanta una cosa non ho detto dello schieramento in corso che abbiamo non abbiamo fatto vedere le matte navali Stefano io le ho messe ma non non è solo quello non è solo quello perché sono in corso una serie di esercitazioni navali che riguardano tutti i mari intorno all'Europa e all'Asia ci sono le esercitazioni nel Pacifico abbiamo visto addirittura il sottomarino Vostok un diesel elettrico nuovo che ha lanciato i missili cos'erano quelli dei calibri da sott'acqua dei calibri da sottomarini sì poi abbiamo visto navali quindi poi abbiamo visto le esercitazioni in corso tra l'Iran la Cina e la Russia nel mare indiano e nel mare arabico anche tra l'altro il 20 c'era stata il 19 c'era stata la visita del presidente Raisi a Mosca a Raisi ha portato una bozza di accordo molto importante per lo sviluppo della collaborazione tra l'Iran e la Russia uno sviluppo che dal punto di vista economico vede nelle intenzioni dell'Iran un aumento esponenziale dell'interscambio commerciale perché hanno detto gli spazi di crescita sono enormi e anche dal punto di vista militare un accordo di alleanza militare lo firmeranno poi una volta perfezionato entro breve cosa simile che quanto successo anche con Cina e India tra le altre cose e quindi vediamo che si rafforza il blocco euroasiatico lo stesso giorno c'era la delegazione russa con l'inviato speciale per la Siria a Damasco e ha incontrato Assad lo stesso giorno Putin ha telefonato una lunga telefonata con il presidente venezuelano Maduro quindi i BRICS prima o poi ce li prendiamo nei denti perché poi dopo ha chiamato anche il presidente cubano e quindi c'è stato tutta una serie di rapporti intensissimi in questo periodo tra la Russia e i suoi alleati ricordiamo che c'è sempre sul piatto la non esclusa creazione né di basi militari russe sia in Venezuela che a Cuba perché non hanno detto faremo le basi hanno detto c'è la possibilità non hanno escluso questa evenienza perché la domanda è stata fatta dai giornalisti sono stati più gli occidentali a tirare fuori questo argomento perché hanno avuto subito paura e quindi in effetti Maduro il giorno dopo aveva detto che se la Russia dovesse aver bisogno che la crisi con gli Stati Uniti dovesse peggiorare loro sono disposti a dare tutto il loro supporto tecnico e militare che ha usato questi due termini sia tecnico che militare e questo può significare tutto o niente però è una disponibilità chiara dal punto di vista poi delle ulteriori esercitazioni ce ne saranno nel Mediterraneo che sono state annunciate che è l'immagine che stiamo vedendo da un po' russe esatto poi la più grossa esercitazione navale occidentale sta avvenendo al momento nel Mediterraneo ci sono tre gruppi navali che si sono unificati che sono il gruppo navale americano della Henry Truman che era nel Mediterraneo ed è rimasta da un po' nel Mediterraneo la porta aerei atomica francese Charles de Gaulle con tutto il suo gruppo navale e la poderosa la Garibaldi porta aerei la Garibaldi no no la Cavour la Cavour la Cavour italiana la Garibaldi funziona ancora o l'hanno dismessa? si si funziona ancora funziona ancora volevano venderla ma non l'hanno venduta no ma per carità ma meno male che c'è ancora la Garibaldi ma la sistemassero anche perché ha un costo di gestione enormemente più basso per le nostre esigenze era già fin troppo era già fin troppo addirittura adesso abbiamo due porta aerei ma cosa ce ne facciamo? ma lo sappiamo l'abbiamo detto nelle puntate passate l'hai aggiunto servono agli altri e le hanno fatte pagare a noi però questo che mi premeva e questi gruppi navali ora sono affiancati da una unità russa che sta transitando in questo momento proprio all'altezza dell'esercitazione navale che è la dunque addio il nome adesso mi viene in mente quello che ho detto cerco lo sbagliato cerco lo sbagliato e spero di non Vassili dunque tu te lo ricordi? guarda Stefano io non volevo commettere lo sbaglio allora ho detto colpo di spugna comunque si tratta di una nave che è per la cattura di informazioni lo spionaggio quindi elettronico Tatishev ecco Tatishev bravo spionaggio elettronico e per guerra elettronica questa nave è passata il giorno 15 a fianco delle coste inglesi e non è stata intercettata da unità britanniche sono i bird watcher che guardavano i cormorani che l'hanno vista ma che hanno detto ma che nave è questa no? però nessuno l'aveva affiancata quindi è passata non riconosciuta da nessuna nazione fondamentalmente esattamente perché non era accompagnata da nessuna nave d'appoggio o è riuscita magicamente a schermarsi durante la sua discesa dai radar esattamente è una cosa un po' strana insolita insolita esattamente si è avvicinata tantissimo perché è passata da Dover va bene comunque sia è andata così dietro ad essa ci sono altre navi ma una in particolare non si è mossa insieme alle altre era già perché era già nel Mediterraneo dove era già era già in Siria e sarebbe l'Alligator Orsk che è l'Alligator è la classe più grande di navi da sbarco anfibio della marina russa e che è entrata mi sembra ieri nel Mar Nero e quindi oggi dovrebbe aver attraccato a Sebastopol quindi questa sta tornando indietro dal suo viaggio in Siria fondamentalmente no arrivava dalla flotta del nord ah ok quindi rientra rientra nel Mar Nero dai mari del nord è passata da Gibraltar dunque lei aveva fatto 10-15 giorni fa questo viaggio e aveva proseguito fino in Siria non era andata nel Mar Nero lì deve aver scaricato il suo carico e adesso invece di tornare nel alla base va nel Mar Nero poi ci sono al suo dietro di essa sono entrate oggi mi sembra da Gibraltar la Giorgio il Vittorioso la Minsk la Kaliningrad la Korolev la Piotr Morgunov e la Minatore Olenegorski queste sei unità mi sembra siano due alligator tre alligator e tre rapuccia una tra l'altro rimodernata da pochissimo sono in viaggio sia dalla flotta del nord che da quella del Baltico e dovrebbero arrivare entro cinque giorni nel Mar Nero alla velocità attuale questo rafforzamento delle forze anfibie tra l'altro sono anche cariche perché sembra che abbiano la linea dalle foto che abbiamo visto linea di galleggiamento piuttosto bassa e quindi dovrebbero essere cariche entreranno nel Mar Nero resta da vedere se sbarcano Sebastopol direttamente a Odessa dici che girano a sinistra per quegli ultimi cinque chilometri li fanno ti ricordo ad esempio che una cosa simile è già successa perché le navi che arrivavano da New York non attraccarono in Inghilterra ma vennero mandati direttamente il 6 giugno del 1944 di fronte alle coste della Normandia quindi al limite loro sono già pronti i russi succedesse qualche problema a sbarcare la roba quanto prima o quanto meno ad avere l'equipaggiamento necessario per farlo resta da vedere appunto se poi questo succederà ora non lo sappiamo non do per scontato che avvenga il conflitto anzi però ricordo che nella storia quando ci sono stati dei dispiegamenti simili di forze alla fine un conflitto c'è stato perché c'era la volontà di qualcuno di portare la crisi fino alle estreme conseguenze non so se vi ricordate il primo Desert Storm quando c'erano soltanto le voci che sarebbe successo qualcosa ecco io mi ricordo ero un bambino era il 91 avevo 9 anni e vedevo i mezzi americani che venivano portati via elicottero ma a ponti aerei di settimane che abbiamo visto davanti a noi io appunto ero in un parco giochi alzavo lo sguardo e vedevo passare Cianuca Pasch e chi più ne ha più ne metta e tutto questo è il materiale che non tornava indietro a casa è il materiale che aveva una sola direzione sì e e poi venne impiegato e poi venne impiegato ma anche venduto immagino perché gran parte di quei mezzi sarà stato rivenduto poi all'Arabia Saudita ma ricordiamoci poi l'invasione successiva dell'Iraq che anche lì dicevamo ma non non attaccheranno mica l'Iraq cosa c'entra l'Iraq con le torri gemelle per dire ricordiamoci la Francia che gridava all'invenzione di prove che loro avevano informazioni che poi aveva ragione su tutto la Francia dell'epoca dell'epoca ma c'era Bill Penn che dicevano a noi non risulta affatto quello che dite voi e venivano insultati e vi dicendo parallelamente a questa situazione Stefano volevamo mostrare l'immagine di quell'ammiraglio tedesco vuoi raccontarci che cosa è successo? allora Schoenbach è il viceammiraglio comandante della flotta tedesca che in un'intervista ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti la prima delle quali ha detto che la Russia richiede di essere rispettata e probabilmente merita il rispetto e cioè che deve essere trattata come un pari perché la Nato vuole imporre le sue regole quando lei stessa non rispetta quelle regole la Nato ad esempio ha destabilizzato i paesi ha creato delle dittature nel mondo ha invaso altri paesi ricordiamo uno su tutto l'Afghanistan che si è concluso quest'estate l'estate scorsa con la sconfitta della Nato che ha dovuto abbandonare in fretta e furia il paese con tutte le conseguenze che abbiamo potuto vedere di sciagura umanitaria e ora ha in parte abbandonato l'Iraq tra l'altro il contingente americano si è ridotto enormemente di numero anche perché l'Iraq ce lo chiede a mani giunte da un pezzo di andarsi di andarsi esattamente però aveva votato solo gli Stati Uniti ora come ora però stanno iniziando a dire però anche voi potreste andare fuori dalle scatole a noi e finirà che se ne andranno alla fine resta comunque il fatto che la capacità russa di spostarsi è notevole però dobbiamo dire una cosa a proposito del viceammiraglio tedesco che va a suffragare la nostra idea che la Germania stia agendo come forza di pace e cioè non potendo fare determinate dichiarazioni il governo stesso o volendo la società civile l'apparato industriale tedesco mostrare la sua volontà la casta militare mostrare la propria volontà e dire la propria opinione sulla vicenda cioè creare causare una guerra e morire per Kiev loro hanno detto che si deve prestare attenzione alle richieste russe ecco forse perché il giorno in cui Blinken è andato in Germania ha cambiato la sua dichiarazione rispetto a quello che aveva detto a Kiev il giorno dopo a Ginevra ha annunciato che avrebbero consegnato le risposte nell'ultimo giorno che avranno a disposizione sicuramente il più in là possibile e magari oltre però la Germania sembra che abbia richiesto di farlo una non coesione tra tutti i membri che inizialmente magari erano d'accordo per questa espansione della Nato posso dirti che anche la Francia non mi sembra molto calda nei confronti dell'aiutare nonostante gli aiuti inviati magari li ha inviati e ha detto io vi mando questo ma non rompeteci più le balle vedi mandano degli aiuti ma chi è che ha detto finora che sarebbe disposto a intervenire soltanto il Regno Unito come ha già fatto come ha già fatto in passato per la Polonia durante la spartizione c'è stata una conferenza stampa negli Stati Uniti in cui il Presidente Biden faceva il resoconto del suo primo anno fallimentare disastroso di presidenza per gli effetti speciali in cui mentre rispondeva a una domanda sull'Ucraina e seguiva il solito copione preparato si stacca dal copione e dà una sua interpretazione della vicenda e dice ma sì in fondo se facesse una piccola incursione se non fosse una cosa veramente grave noi potremmo chiudere un occhio tutto sommato ecco ma se invece dovesse dispiegare tutto quello di cui è capace e allora le conseguenze sarebbero gravissime questo era più un messaggio per Kiev tranquilli mi sembra che fosse più un messaggio per Mosca nel senso magari se vi limitate a fare qualche cosa di una dimostrazione in fin dei conti gli Stati Uniti quando è che si sono limitati e non hanno invaso ma hanno bombardato con salve di missili bombardamenti con B-52 B-2 via dicendo altri paesi l'hanno fatto tantissime volte in questi decenni come dire ma sì ma se bombardate il palazzo presidenziale di Zelensky lo fate fuori alla fine delle fini è un'azione limitata no? non avete mica invaso tutto sommato ecco cioè non è molto chiaro nemmeno i limiti i confini oltre i quali questa cosa può capitare tutto molto fumoso e strano e poi si è scatenato l'apparato americano che subito ha corretto il presidente dicendo no quel vecchio bambacione era completamente rincoglionito non sapeva cosa stava dicendo cosa stava leggendo no non stava più leggendo la sua interpretazione la sua interpretazione ha voluto ma tieni presente che Biden ok non ci scherziamo sul fatto dell'età dell'Alzheimer è messo male è messo male ma luce comunque resta un politico che ha una grandissima esperienza e lui quindi quando ha detto ma sì lui stava dando un suggerimento per uscire forse da questo un pass e non è detto che non sia neanche una mossa sbagliata in fin dei conti fare un'azione dimostrativa come hanno permesso tra l'altro di fare agli iraniani colpendo quelle basi dopo l'assassinio del generale Soleimani o gli americani colpire le basi siriane quando c'è poco o niente di esatto sai che avevano lanciato quei missili contro un edificio che poi era fondamentalmente vuoto altri che erano finiti in una base senza creare danni perché poi abbiamo visto i bunker tutti interi le piste non mal ridotte no erano cadute vicine esatto esatto fatto sta che insomma la situazione grossomodo è questa il viceammiraglio probabilmente che era due settimane dalla pensione quindi non è questa interpretazione che volevo sentire esatto che non se ne è anche giocato la carriera probabilmente è stato mandato avanti a dire le cose che non potevano essere dette ufficialmente e soprattutto agli americani credo che il viceammiraglio Schoenbach si sia fatto carico di rappresentare le effettive posizioni tedesche di fronte all'opinione pubblica e di fronte anche alle orecchie della Russia come dire noi non parteciperemo a questo gioco che è una cosa eccezionale da parte della Germania che solitamente è quella che instiga eh sì però ripeto la Germania al momento ha la migliore classe politica europea europea e io rimpiango già la Merkel per le sue capacità eccetera però vedo che anche i nuovi che sono arrivati nel giro di poco stanno aggiustando il tiro rispetto a quelle che erano le previsioni iniziali ma la Merkel se ne è andata veramente o è ancora dietro che li sta magari aiutando la Merkel si era chiamata fuori si è chiamata fuori del tutto non so se poi loro eventualmente la contattino privatamente magari magari appunto ci sono degli scambi è una fonte di esperienza impressionante e per i tedeschi comunque ricordiamoci la Germania sopra tutti sì 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 ma poi oggi sono quello che sono grazie a questi vent'anni passati alle spalle di altri esattamente va bene credo che abbiamo detto tutto quasi tutto c'è ancora qualcos'altro c'è ancora qualcosa adesso lo chiudiamo con gli Emirati Arabi oh signore Dio allora dallo Yemen gli Emirati dopo aver colpito Riad e varie termine al petroliferi dell'Aramco in Jedda gli anni scorsi in giro per il mondo negli anni e mesi scorsi si sono sbizzarriti nel colpire gli Emirati Arabi niente po' di meno che Abu Dhabi direttamente dimostrando quindi incendi che se vogliono la colpiscono a loro piacimento e causando incendi e fumo visibile ovunque ricordiamo che Abu Dhabi è un centro internazionale per lo smercio commerciale a grandi livelli con grandi numeri in vari campi è meta turistica prediletta da moltissimi turisti sempre di più nel mondo poi mi spieghino perché cosa c'è ci sono sabbia e alberchi perché mai bisogna andare ad Abu Dhabi quando ci sono mille altre scelte nel mondo però loro con una grandissima campagna di marketing hanno sponsorizzato la presenza di tanti personaggi famosi che passano le vacanze ad Abu Dhabi e postano queste sui social sembra Epstein Island c'è questa similitudine e quindi hanno fatto creato questo desiderio alla moda di andare ad Abu Dhabi poi magari io mi sbaglio perché tanta gente ci va che conosco anche ci raccontino quali sono le bellezze è tutto molto moderno tutto ben organizzato c'è intrattenimento di vari tipi per i turisti chiaramente per i locali probabilmente esattamente esattamente e quindi c'è molto business è tutto al dio denaro che probabilmente supera addirittura adesso quello che è il petrolio a Abu Dhabi gli Emirati Arabi si dimostrano sempre all'avanguardia nell'organizzare nell'interpretare il mondo di oggi questo colpo per loro costerà caro e quindi perché ricordiamo che loro sponsorizzano la secessione di uno stato nello Yemen del sud con capitale Aden e questo probabilmente agli uti non va molto ecco questo attacco non viene dal niente non viene dal niente perché è pesantemente impegnato l'Emirato Arabo nota come piccola Sparta nella guerra nello Yemen soprattutto nel sud si era un po' ritirata in tempi recenti dalle operazioni militari di prima fila soprattutto a fianco dell'Arabia Saudita che è stata un po' lasciata da sola che ha tentato la spallata contro le forze uti nella solita zona di Marib però sembra che sia esaudita anche questa sono riusciti a contenerla addirittura abbiamo visto proprio ieri cadere in una imboscata ennesima le forze saudite in avanzata che sono state inseguivano delle lepri e poi sono arrivate due colline ai fianchi loro nella valle in mezzo e come al solito li hanno riempiti del fuoco di mitragliatrici pesanti e ne hanno fatto diciamo carne da macello Stefano grazie io ti chiedo scusa sento già la voce il tono che cominciava nettamente si sta un po' esaurendo la corda vocale benissimo grazie per l'attenzione grazie per la pazienza agli ascoltatori siamo arrivati un'ora e 45 poco più privirete drusia alla prossima Stefano ciao a tutti ciao grazie mille